Ciao Piglio, sono Lorenzo da Roma e ho 19 anni. C'è posta perché, come hai saputo anche tu, è venuto a mancare un mio idolo, ma credo anche tuo, Mario Magnotta. Visto le risate che ci ha fatto fare, mi sembra una cosa carina fargli un ultimo omaggio. Che ne dici? Zaro pianti e lacrimoni, lui è un mito che ha unito le generazioni, è morto io non ci credo, Magnotta è come Tupac, ha la leggenda dietro, e non so dov'è ma ci osserva, è sicuro ancora sbrocca, mi ricordo in prima media. Chi è la signora? No, sono Magnotta. Lo tira sulle mani per Mario il saggio, in paradiso ha un appoggio, e tutti i santi gli rendono omaggio, eccetto San Giorgio. Magnotta, eroe dei due mondi, tra il sacro e il profano, che nella gloria sprofondi a squarciagola, insieme cantiamo. Magnotta, per voi, è morto. Magnotta, per voi, è morto. Non vediamo, Magnotta, per voi, è morto. Magnotta, per voi, è morto. È morto? No, 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 no Grazie a tutti